In questa posizione ho tirato un ottimo doppio 2 e ho giocato istantaneamente senza riflettere minimamente portando fuori le 4 pedine dalla casa 2. In realtà sarebbe stata necessaria una minima riflessione in quanto il mio avversario ha una cosiddetta speedy board cioè dopo che riuscirà a portare lo struggler l'ultima pedina arretrata nella sua casa interna non perderà più un colpo tirando fuori almeno 2 pedine per volta mentre io invece posso missare anche più di una volta. Detto questo è abbastanza chiaro che la mossa corretta è colpire la pedina avversaria mettendola sul bar e portar fuori due pedine dalla casa 2. Se avessi pensato un attimo avrei considerato questa mossa e l'avrei anche scelto. L'errore che ho commesso è notevole vedete oltre i 300 e passo da un 64% di possibilità di vittoria a una percentuale di vittoria inferiore al 50% quindi una differenza grossissima. Ho pagato questo errore a caro prezzo perché sono passato da un possibile da possibili due punti per me a quattro punti per l'avversario perché poi è passato in netto vantaggio ha ricubato e io ho commesso un ulteriore errore accettando il cubo e ho perso quattro punti. Comunque, morale della favola ci sono posizioni in cui è meglio non giocare istantaneamente ma riflettere un attimo. Anche le mosse che sembrano scontate possono non esserlo. Quindi è vero che ero un po' infastidito dal fatto di aver pensato un po' troppo ed essere quindi diciamo sotto media. Però questa era una posizione importante e dedicare qualche secondo a verificare che la mossa fosse corretta sarebbe stato importantissimo. Buona lezione per il futuro. Grazie dell'attenzione e arrivederci alla prossima.